Ciao amici e benvenuti nella recensione di Deade Island 2, Caccia allo zombie, prodotto Deep Silver, sviluppo da Ambuster Studio, lingua in inglese e sottotitoli in italiano, disponibile per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X, AS e PC. Ovviamente la versione per PlayStation 4 è retrocompatibile per PlayStation 5, la versione per Xbox One è retrocompatibile con Xbox Series X o S, se in caso l'avete preso in digitale. Supporto in 4K? Sì, rate resi attivo arriverà in futuro con un futuro aggiornamento. Per il momento non supporto dei rate resi. Prezzo di lancio 69,90€ l'edizione normale, 109,90 centesimi l'edizione Hill Ho Edition, che sarebbe l'edizione speciale che contiene anche i Season Pass. Genere FPS, Action RPG. Trama, un virus letale che si sta diffondendo in tutta Los Angeles, trasformando i suoi abitanti in zombie affamati di carne umana. Ovviamente la città viene messa in quarantena dall'esercito e ovviamente i pochi sopravvissuti cercano di salvarsi la pelle. Mi fermo qui perché non voglio rovinare i colpi di scena e fare spalle. Parliamo invece dall'aspetto tecnico. Allora, il gioco dal punto di vista tecnico, devo dire la verità. Dambuster Studio ha fatto un ottimo lavoro. Il gioco per quanto riguarda le abitazioni sono varie, sono ben strutturate le mappe e soprattutto sono anche ben dettagliate, senza cali dei frame rate. Non ho notato nessun rallentamento. Per quanto riguarda i design dei personaggi, sia per quanto riguarda i protagonisti, sia per quanto riguarda i personaggi che ci daranno le missioni primarie e secondarie, sia per quanto riguarda anche gli zombie, sono stati ben curati, con animazioni fluide, sono ben dettagliati e caratterizzati. In più anche gli zombie sono ben costruiti, sono ben dettagliati, sono molto realistici anche per quanto riguarda il gameplay, ma quello lo vedremo tra poco. E per di più sono anche di vario tipo, insomma una bella varietà. Poi c'è il doppiaggio in inglese che è buono, con i sottotitoli in italiano e le musiche a tema ben implementate durante le fasi di esplorazione, le fasi oro e anche le fasi di combattimento. Insomma, da punto di vista tecnico hanno fatto un bel lavoro. Vediamo insieme comunque com'è il gameplay se anche questo è di ottima qualità. Ci vediamo tra poco. Eccoci qua con la parte del gameplay. Prima di dare inizio alla caccia allo zombie, il gioco ci dà la possibilità di scegliere il nostro personaggio tra i sei disponibili. Ognuno di essi avrà le proprie abilità particolari da sfruttare in combattimento. La caratteristica principale messa a punto dagli sviluppatori è il sistema flash, che permette di massacrare gli zombie in modo realistico e violento e spettacolare. Se avete pensato a durma interna siete sulla strada giusta. In base a dove noi punteremo le varie parti del corpo, ad esempio una gamba o un braccio, potremmo smembrare lo zombie, il povero mancapitato praticamente. Questa caratteristica, oltre a essere spettacolare, ha anche un ruolo tattico. Ad esempio fare la pezza delle gambe dello zombie lo renderà un facile bersaglio che noi potremo spapolare la testa con calcio, come si vede nel video dimostrativo che ho fatto per questa recensione. Giustamente il gioco bisogna stare anche attenti, visto che oltre i classici zombie, i classici run, ci sono varie tipologie di zombie che noi dovremmo sfruttare a pieno le varie armi, sia da corpo a corpo che da fuoco e dovremo anche modificare al meglio per poter superare gli scontri. Ecco a proposito di modifiche, giustamente per modificare un'arma, che potremmo non so, includerli un attacco elettrico o un attacco da fuoco, dovremo cercare gli oggetti utili sparsi per i livelli. Esplorando l'abitazione di gioco potremo trovare i vari oggetti che saranno utili per modificare l'arma. Verso dove? Verso il banco da lavoro che una volta che noi l'abbiamo raggiunto, in base agli oggetti che noi avremo ovviamente disponibili, potremo modificare o aggiustare l'arma. Ah sì, c'è anche questa caratteristica. L'arma non vi dura per sempre, una volta che la utilizzeremo continuamente l'arma si romperà. Potremo anche comunque ripararla o se no scartarla e ricevere in cambio gli oggetti per potenziare le armi più potenti che troveremo man mano nel gioco. Giustamente più noi scuffiggiamo gli zombie, più affrontiamo le quest primarie e secondarie, guadagneremo punti di esperienza che faranno crescere i nostri personaggi. Man mano che cresceranno sbloccheremo gli slot per le carte. Le carte sono delle abilità bonus che noi potremo ovviamente equipaggiare man mano che andremo avanti. Creare praticamente la nostra build personalizzata. Le carte come bonus possono dare varie tipologie di bonus. Ad esempio se noi uccidiamo uno zombie sul colpo possiamo ripristinare la vita o se no aumentare l'attacco o la velocità dell'arma. Sono bonus diciamo un po' diciamo tra virgolette random. Un'altra caratteristica è l'abilità furia. Il nostro personaggio che andrà più avanti nella storia sbloccherà questa caratteristica che praticamente si trasformerà una sorta di berserker e potrà ridurre gli zombie praticamente a pezzi utilizzando le mani. Ovviamente come ho detto prima questa abilità non potrà essere utilizzata a piacimento. Bisogna caricarla man mano che si affrontano i nemici. Una volta caricata l'apposita barra potremo scatenare la nostra furia sugli zombie. Ecco se devo elencare un difetto in questo gioco è che man mano che noi combattiamo subetra un po' la ripetività. Però per il resto il gameplay funziona e sa divertire. Direi da passare adesso alla sintesi e pedimi un po' se consiglio o no Dead Island 2. Ci vediamo tra poco. Dead Island 2. Ovviamente la domanda surge spontanea. Dan Baste Studio è riuscita a creare un degno seguito? Ovviamente la risposta può sorprendere. Dopo 12 anni di sviluppo, diciamo tra virgolette un po' come gli anni di sviluppo successo a Dukenaka e Forever, per Dead Island 2 c'erano molti dubbi sulla qualità del gioco. E diciamo che dubbi abbastanza negativi. Però una volta che mi è arrivato il gioco in mano, sono riuscito a provarlo, a giocarci, devo dire la verità, Dan Baste Studio ha avuto fortuna. Tecnicamente il gioco è stabile, nessun caldo di frame rate, il design dei personaggi degli zombie è ben curato e anche le abitazioni sono varie e anche belle. Giustamente poi ci sono anche le musiche a tema ben implementate, i sottotitoli in italiano e un doppiaggio in inglese veramente curato. E dal punto di vista di gameplay riesce a divertire e riesce a essere anche impegnativo e più di più anche la tecnologia messa a punto dagli sviluppatori sul sistema Flash che permette di massacrare i zombie, di smembrarli in base a dove vengono colpirti, rende l'azione di gioco veramente spettacolare. L'unico suo difetto riscontrato del gioco è che ovviamente ha andato avanti un po' a giocare e massacrare i zombie, la verità purtroppo è quella, nel senso che diventa un po' ripetitivo dopo un po'. Però il gioco per quelle poche ore spensierate, esplorando i livelli, modificando le armi, combattere anche i boss, la verità degli zombie, rende l'azione di gioco bella, impegnativa e bella, divertente. Il mio consiglio è questo, se siete appassionati del genere, avete giocato al primo capitolo, siete appassionati sui zombie, idea degli Islam 2, potete fare caso a vostro, invece per chi si aspettava qualcosa di diverso, qualcosa di in più, ovviamente ci sono altri giochi. Bene raga, questa è la fine della recensione di idea degli Islam 2, spero che vi sia piaciuta, anche voi se ci avete giocato o ci volete giocare o conoscete la serie, fatemi sapere sotto nei commenti una vostra opinione personale e noi ci vediamo per il prossimo video, un saluto dall'Uomo Misterioso, dal Lady Blue e dal vostro amico Bombe, dal mio amico Pablo che sta rosicchiando una roba che non deve rosicchiare, no lì, e noi ci vediamo alla prossima, ciao a tutti, bye bye!